Sul trenno L'Aquila-Roma, passando per la Marsica, si va avanti e dalla riunione di ieri chiesta dal sindaco Biondi con i soggetti interessati, è emerso che ci sarà un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del Ministero, di RFI, Comune dell'Aquila e Regione, con l'obiettivo di giungere in tempi rapidi a definire un cronoprogramma per la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica. Una prima ipotesi di tracciato è già allo studio di RFI, che ha assicurato velocità per l'indicazione dei servizi e dei fabbisogni. La riunione c'è stata ieri d'intesa con il Presidente della Regione, Marco Marsilio. Nell'incontro è emersa la volontà di procedere alla Costituzione in tempi rapidi, come si diceva, di questo gruppo di lavoro, per trovare così una soluzione che garantisca il collegamento tra il capoluogo di Regione e la Capitale. E tutto questo nell'ottica di uno sviluppo complessivo infrastrutturale, che nei prossimi anni interesserà tutta la Regione Abruzzo, attraverso alcune azioni, come ad esempio la velocizzazione della tratta Pescara-Roma, inclusa tra le opere prioritarie del PNRR e l'inseramento della dorsale adriatica nelle reti europee TNT. Intanto ci sono alcune notizie concrete e positive. Il fatto che l'Aquila Tagliacozzo sia stata inserita nel documento strategico del Ministero, sul fatto che il capo della struttura del Ministero, il Professor Catalano, abbia ribadito la necessità della perequazione infrastrutturale fra aree interne e aree costiere, con particolare riguardo ai collegamenti dei capoluoghi di provincia, c'è la volontà di RFI, come c'è stata detta ieri, di risolvere comunque il tema dei collegamenti. Per andare avanti e rapidamente, perché è stato convenuto il fatto che il tempo non sia una variabile indipendente, ma anzi sia un elemento fondamentale anche per poter intercettare le risorse importanti che ci sono. In ballo si costituirà un gruppo tecnico con la Regione, il Ministero, RFI e il Comune dell'Aquila, naturalmente che farà il primo step sulle ipotesi alternative. Il secondo step sarà quello sull'analisi dei servizi e dei fabbisogni e il terzo sarà quella della redazione appunto del progetto di fattibilità tecnica e economica. Si tratta di un'infrastruttura importante, naturalmente non possiamo immaginare che domani saliamo sul treno e arriviamo in un'ora a Roma, ma è comunque un seme gettato e i grandi progetti nascono così, con la chiarezza d'idea e con la volontà congiunta di risolverli, di affrontarli e di portarli a casa. Un progetto importante che recepisce anche le richieste del tavolo per i collegamenti ferroviari veloci e che acquisisce una valenza strategica che fa il paio con la direttrice che punta verso Sulmona e da qui verso Pescara, con un sistema che vede finalmente dopo mezzo secolo, ha detto il sindaco per Luigi Biondi dal dibattito sulla realizzazione dell'autostrada 24, l'Aquila al centro dell'agenda nazionale per la riduzione dei tempi di percorrenza lungo la direttrice Tirreno-Adriatica.